salve a tutti amici iscritti ieri è uscita la concorso del mulino bianco l'anno scorso abbiamo vinto un nosainetto e quest'anno abbiamo preso come confessioni una confessione di flauti al latte del mulino bianco così in simbolo scatta la felicità e due confessioni di plan pancake classico del mulino bianco e quest'anno il concorso è scatta la felicità del mulino bianco e la confessione si può trovare non con le focaccelle del mulino bianco ma si possono trovare con frotte al latte pan goccioli pane più cioccolato al latte e plan cake qua potete vincere però con i cosi ma non vinco mai purtroppo non vinco mai con puoi vincere una mini fotocamera di gg poke 2 bella lo vorrei ma purtroppo non si può avere forse qualche gente ce la fa non lo so e collezionasi i codici e ricevi il regalo un tonchi nano personalizzato con la tua foto ma non so ancora decidere quale foto mettere e qua c'è un codice del mulino bianco va bene ragazzi questo è il video di scatta la felicità con il concorso mulino bianco speriamo di vincere qualcosa e lo riceveremo sempre a natale il tonchi con personalizzato con la tua foto ciao a tutti grazie 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 a tutti.